Eccoci qua! Allora, buon pomeriggio a tutti. Buonasera a tutti. Vabbè, pomeriggio, sono le 18.30. Questa è la prima puntata di una serie di 13, Sommersa e Salvate, è il titolo di questo nuovo progetto teatrale che abbiamo fatto noi del Naufragame Dolce. Come vedete, in due studi separati ci siamo noi, Chiara Casarico e Tiziana Sclocca. Adesso andiamo a chiamare la nostra, abbiamo pensato prima, come la chiamiamo, la nostra committente, produttrice, stimolatrice, vicinate, colei che ha fatto nascere questo progetto. Esatto, ha fatto nascere questo progetto, l'ha voluto fortemente, quindi invitiamo Simona Lanzoni, adesso la aggiungo in studio. Eccola, ciao Simona. Ecco Simona. Ciao, cari. Ciao, cari. Certo che presentazione. Eh, hai visto? Non te lo saresti mai aspettato. Allora, Simona Lanzoni rappresenta la Fondazione Pangea Onlus e si occupa da una vita di donne, e donne non soltanto, credo, qua in Italia, ma anche e soprattutto all'estero. Eh, dici qualcosa di te, Simona? Eh, bene sì, perché la Fondazione Pangea nasce nel 2002, proprio con, nasce con le donne nel cuore, nei luoghi di conflitto, perché abbiamo cominciato con l'Afghanistan, e poi abbiamo continuato con il Nepal, dove c'erano altri conflitti, per arrivare poi in Congo, e poi tante zone di povertà estrema, fino ad arrivare poi in Italia. Siamo arrivati tardi in Italia, nel 2008, eh, però poi piano piano ci siamo resi conto che tante donne che provengono dai conflitti sono oggi in Italia. E quindi poi è proprio di questo che parliamo oggi, con il vostro spettacolo, fortemente voluto, perché, perché volevamo un po' restituire una narrazione diversa su dei percorsi difficili, però non per sempre e per forza perdenti. Esatto. Allora, che dici Tiziana? Facciamo parlare… Facciamo parlare le immagini, mandiamo la prima clip, che è il prologo dello spettacolo. Vediamo un po' chi racconta, e poi ci agganciamo. Sous-tit… Grazie a tutti. 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 emozionante e spero al più presto che il Covid possa permettere di poterlo far girare, perché veramente vale la pena. E dall'altro volevamo non solo ridare voce, restituire voce alle vite delle donne che poi oggi sono qui, richiedenti asilo, rifugiate, migranti, comunque nel percorso di integrazione e inclusione in Italia per niente facile e dall'altro volevamo un po' mappare quali sono i servizi che permettano alle donne di reintegrarsi e capire quanti di questi servizi prendessero in considerazione il fatto che queste donne sono donne e come diceva prima Tiziana incontrano una serie di difficoltà specifiche che solo le donne incontrano, tra cui molto spesso appunto la violenza, sia in casa, poi nel percorso durante un conflitto, nel tragitto e poi quando arrivano in Italia. E volevamo capire se effettivamente in Italia, in particolare nella regione toscana, perché la regione toscana non è una delle ultime nel dare servizi di questo genere, anzi è una che sappiamo essere una tra le migliori regioni, volevamo capire se già solo in regioni comunque avanzate ci fossero difficoltà nell'accoglienza che prende in considerazione le specificità dell'appartenenza di genere. E ci siamo resi conto anche solo mappando questo che molto spesso mancano, la prima cosa è che mancano i dati, perché le donne entrano in questa grande nuvola neutra dove i migranti sembra che sono tutti uomini. Eppure non è così perché ci sono oltre diecimila donne che sono entrate lo scorso anno e quindi vuol dire che sono tante vite che devono essere comunque accolte e in qualche modo sostenute per poter poi dar loro un là nel processo di empowerment e dall'altro comunque non possiamo pensare che donne e uomini siano uguali perché hanno veramente delle difficoltà e dei bisogni diversi. E quindi ci siamo resi conto che queste sono tra le cose più importanti che si dovrebbero offrire a loro. Intanto sapere quante sono le donne, dati che oggi non ci sono e dall'altro dovrebbero offrire dei servizi e quindi preparare le operatrici e gli operatori che devono accogliere sia donne che uomini a essere formati a poter rispondere in maniera adatta alle loro esigenze. E questo comunque è qualcosa che manca a meno che non ci siano già percorsi personali, per interesse personale delle operatrici o degli operatori. È qualcosa che noi veramente chiediamo fortemente alle istituzioni perché pensiamo che sia l'unico modo per costruire dei punti di pace e di inclusione perché sappiamo benissimo che la non inclusione genera disagio e da quel disagio c'è sempre una reazione violenta sia di chi accoglie che di chi è accolto. Ecco perché comunque Sommersi e Salvate è in qualche maniera un modo non solo per salvarsi da chi scappa ma anche per salvarsi in chi accoglie e questo è fondamentale ed è un messaggio che voi con lo spettacolo date fortemente e secondo me è importantissimo. Quindi diciamo che questo piano donne pace e sicurezza noi speriamo veramente che diventi qualcosa di più insieme al piano nazionale antiviolenza perché le donne straniere hanno bisogno di essere prese in considerazione sia dal punto di vista interculturale che di genere e quindi è fondamentale. Grazie Simona per questa piccola introduzione perché effettivamente il tema è enorme e noi ce ne siamo accorte subito appena ci hai invitate alla prima riunione. Oggi riguardavo tra le e-mail era il 18 aprile scorso, cioè è passato più di un anno e mezzo e questo progetto è stato un parto abbastanza faticoso, travagliato anche perché le storie che andiamo a raccontare e che noi abbiamo letto, ascoltato perché voi ci avete fornito delle interviste, ci avete fornito proprio il materiale, in alcuni casi abbiamo potuto parlare direttamente con qualcuno, ma chiaramente non è cosa facile perché non è semplice poi entrare in contatto con queste persone e queste realtà e quindi grazie intanto per averci dato questa opportunità, però appunto dicevo è stato un parto faticoso, le storie hanno un portato pesante, però è vero che c'è la possibilità di salvezza e il taglio che voi avete dato al progetto, è sister for peace, quindi questo è sister che è la sorellanza, questo termine sul quale ci siamo interrogate e abbiamo detto ma che cos'è la sorellanza, come la traduciamo la sorellanza? Beh, intanto l'abbiamo fatta, l'abbiamo praticata e a parte che noi la pratichiamo ormai più da 15 anni perché il primo progetto teatrale era figlia di Sherazad ed era esattamente 15 anni fa e quindi diciamo che una sorellanza c'è e si sente fortemente, poi in questo momento in cui noi teatranti siamo molto colpiti, non che gli altri non lo siano, per carità, però diciamo che come categoria abbiamo sentito fortemente questa pandemia, si vuole dire qualcosa? Sì, volevo dire una cosa perché è importante quello che tu dici, perché anche figlie di Sherazad rientrava proprio nell'idea, avendo come fondazione Pangea lavorato e lavoriamo ancora nelle zone di conflitto, post conflitto che comunque rimangono zone molto, diciamo con un conflitto a bassa intensità però che esiste diciamo che la risoluzione delle nazioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1325 parla proprio del ruolo delle donne nelle zone di conflitto e il figlio di Sherazad nel 2005 ormai era uno spettacolo che parlava di donne che in qualche modo prendevano la voce e portavano avanti il loro attivismo politico per i loro paesi. Quest'altro invece che è figlio di un altro momento storico e quindi di una riflessione su quello che sono stati dal 2015 in poi gli sbarchi fondamentalmente che hanno visto comunque travolta l'Italia con reazioni diverse, hanno permesso però di rimettere al centro sempre la condizione delle donne ma di un altro tipo di donne, quelle che forse non avevano la forza di essere attiviste o erano attiviste ma sono dovute scappare comunque e quindi che poi arrivano qui ma sono sempre comunque sorelle di quelle figlie di Sherazad che hanno una speranza di poter poi ritrovare la loro vita qui, ricostruirla qui, ricostruirla in qualche zona d'Europa e quindi è fondamentale dare voce anche a loro e alle loro storie e soprattutto è fondamentale restituire la possibilità, un'opportunità di ripartire per una vita nuova fondamentalmente questo. Quindi sono completamente sorelle perché per noi esistere for peace era un modo per dire esiste la sorellanza per la pace, dare loro voce, dare noi voce a noi stesse anche un modo per costruire i ponti e queste donne che poi oggi sono qui potrebbero un giorno essere ponte di pace nei loro paesi, tra noi e loro. Quindi è fondamentale il ruolo, non ce lo dobbiamo dimenticare, veramente possono essere la chiave per costruire un futuro diverso. Sì. Guarda, non so se Tiziana vuole aggiungere qualcosa. Infatti anche questo colpiva anche quando abbiamo iniziato a lavorare sullo spettacolo e le interviste che abbiamo visto, che ci avete fornito, la forza di queste donne che erano proiettate in avanti, comunque in una proiezione di futuro. Poi era una gran fatica raccontare da dove venivano, il viaggio, insomma la parte dolorosa, però non incidevano su questo, non solo per una difficoltà, per il trauma emotivo, perché quello che ci ha colpito era la proiezione in avanti, cioè comunque di imparare la lingua, di ricostruirsi, di andare avanti, di portare le famiglie, donne che appena si sono un po' sfruttrate, comunque sono diventate abbasciatrici di pace qui per il loro paese, il caso di Ashtar, comunque che sentivano che ce l'avevano fatta e che avevano un ruolo in questo mondo, in questa vita, erano proiettate in avanti, secondo me questa è la cosa bella, se no si è abituati a pensarli solo come vittime e invece sono persone appunto sommerse, che mi ha salvate, che si salvano e guardano avanti, guardano avanti e sono proprio un ponte, un ponte per avere un rapporto diverso anche con questi paesi, guardarli in maniera diversa e farci anche capire, perché io mi sono accorta di quante cose non sapevamo, di quante cose non conosciamo, non sappiamo. Infatti siete stati voi anche che vi siete fatte sommergere. Sì, sì, è proprio stato così, è stato veramente, siamo state sommerse, eravamo travolte, perché a seconda delle storie bisognava andare a capire che cosa era successo, perché quante cose non sappiamo, ignoriamo, ci sono stereotipi, preconcetti, mettiamo tutti in uno stesso gruppo, il migrante è solo, come dice, un maschio generico, non riconosciamo la migrazione al femminile, non capiamo la differenza tra le varie migrazioni, cioè che veramente dobbiamo capire chi abbiamo davanti, informarci, dobbiamo rompere gli stereotipi e andare a scoprire tante, tante, tante realtà. No, ma poi anche proprio fisicamente, cioè uno non si rende conto delle storie che ha davanti, perché le vede sempre appunto o generiche o comunque così lontane, così anche assurde. Allora, leggendole, chiaramente ci sono le parti, no, del, che ne so, le violenze subite che ti fanno sentire il peso di questa storia, però come diceva Tiziana, in realtà queste sono donne che sono andate oltre, cioè mentre ti stanno raccontando questa storia stanno già andando verso un futuro migliore, un futuro diverso, no? Quindi si sono salvate ed è proprio questa salvezza, no, che è la cosa che ci interessa e che ci fa andare oltre alla pesantezza della provenienza, perché adesso noi abbiamo visto il prologo e nel prologo effettivamente ci sta un naufragio, ci sta la galera, ci stanno le bombe, la guerra a casa, cioè le voci, no, le voci delle donne che abbiamo sentito, no, si sente io sono scappata, sono scappata, cioè le bombe, cioè parole concitate che ci riportano a un vissuto problematico, ma in realtà queste sono già andate oltre e quindi è questa veramente un po' la bellezza di queste storie è l'opportunità di conoscere questo argomento che per noi è assolutamente sconosciuto e faccio proprio un esempio così banale, no, andando dal fruttivendolo, no, la classica cosa, eh ma vedi questi migranti, poi vabbè appunto questi migranti, quindi non esistono le migranti o i migranti, ma quindi questi migranti arrivano e hanno pure il cellulare, cioè è il minimo che abbiano un cellulare, perché senza un cellulare non avrebbero potuto fare assolutamente nulla. Noi siamo i primi che non siamo in grado di campare senza un cellulare e come dicevo, anzi come dirò in una scena, cioè noi non siamo in grado di andare da Roma Termine a Roma Tiburtina senza un navigatore satellitare, questi vengono dall'altra parte del mondo e è il minimo che abbiano un cellulare, cioè è proprio il minimo. Allora io adesso direi, dato che siamo più o meno già a 25 minuti dalla nostra diretta e ho visto che c'è stato un pubblico abbastanza cospicuo che è rimasto dall'inizio alla fine ad ascoltare queste storie, io rimanderei un po' alle prossime puntate perché appunto l'argomento è vasto, è molto molto interessante, di storie ne raccontiamo tante e ogni storia poi apre dei, apre ulteriori argomenti. Quindi io credo che veramente al di là della visione delle scene dello spettacolo perché ogni puntata noi proietteremo una scena diversa. Al di là di questo c'è veramente la possibilità di capire meglio un argomento che non conosciamo abbastanza e che in realtà ci aiuta a crescere e avremo anche altri ospiti perché chiaramente non saremo in studio soltanto noi tre ma avremo delle ospiti, anzi delle esperte perché ogni scena richiama a un argomento specifico e quindi apre veramente un capitolo. Quindi immaginiamo che sono 13 capitoli sull'immigrazione al femminile. Quindi ecco se non avete altre cose da dire forse... Sì, è una cosa che il titolo oggi, proprio perché poi oggi si inizia quindi perché questo titolo che è ovviamente un omaggio a Primo Levi perché appunto quando noi abbiamo iniziato insomma a leggere queste storie c'era un parallelo enorme con l'orrore, no? Con l'orrore che è successo appunto con la Shoah e quindi per caso c'era a Roma proprio quel periodo ad aprile c'erano delle manifestazioni legate proprio a Primo Levi, avevamo visto uno spettacolo e mentre guardavamo questo spettacolo non solo noi due ma anche la platea diceva è quello che sta a succedere, cioè descriveva i campi di concentramento sembrano i campi di detenzione in Libia, quindi abbiamo detto. E Levi dice bisogna stare attenti perché l'orrore si ripete, perché l'animo umano è capace di fare questo, quindi dobbiamo raccontarlo, analizzarlo, no? Proprio per stare attenti, per sapere che non è un incidente, può accadere di nuovo. E la cosa interessante secondo me è proprio anche nello spirito era questo, cioè Levi fa questa analisi, cioè conoscere, bisogna conoscere che cosa è successo, bisogna distinguere, bisogna entrare nello specifico, non affidarsi diciamo all'immaginario così popolare, no? C'è questa analisi attenta, scientifica, con cui lui riacconta, riattraversa il lager dopo che non è come se questo è un uomo, ma è un'analisi di quello che avviene, come funziona e in qualche modo è quello che è successo anche per noi, cioè andare a scoprire, a toccare le storie, a distinguere, a riconoscere i problemi, perché altrimenti mettiamo tutto in un, facciamo una marmellata e appunto loro sono lì, noi siamo qui, questi ci vengono a scocciare, le donne, gli uomini, la stessa cosa come diceva Simone, riconoscere i bisogni, riconoscere i problemi, riconoscere le istanze, riconoscere le risorse e anche cercare insieme le soluzioni. Allora può nascere un rapporto anche di sorellanza, per esempio, cioè solo se io ti ascolto, riconosco, distingo, se io ti incontro, no? Quindi anche queste 13 puntate vanno un po' come un po' le scene ad analizzare, a distinguere le storie, a capire le provenienze, le problematiche, non per quello diciamo, cioè siamo stati sommersi dalle storie, ma anche la necessità di comprendere, di comprendere con la testa, col cuore, analizzare e dare dei nomi precisi a quello che loro vivono, da dove vengono e che cosa cercano. Per questo c'era un po' questo richiamo a Primo Levi che fa con quel libro un'analisi, un'analisi di un processo storico. Ok, allora direi che siamo arrivati alla fine della prima puntata, io ringrazio ancora Simona Lanzoni di Fondazione Pangea, ringrazio il Ministero di Pangea, io ringrazio voi e grazie a tutti quelli che hanno seguito questa puntata, vi rimandiamo al prossimo appuntamento martedì 27 ottobre alle 18.30, seguiteci sempre sulla pagina del Nafra Carmen Dolce, ciao Buona serata 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 Buona serata